Buonasera e benvenuti nel nostro canale. Prima di parlare di anticipazioni, vi ricordo che stiamo facendo una petizione che presenteremo a Mediaset per chiedere di allungare le puntate della promessa. È veramente scandaloso che durino circa 10 minuti. Per partecipare anche tu alla petizione, metti un commento sotto al video scrivendo la parola BASTA. Più siamo e più possiamo ottenere qualcosa. Una volta raggiunti i 5.000 commenti e 5.000 like, presenteremo una richiesta ufficiale a Mediaset per allungare le puntate della promessa minacciandoli di non guardare più i loro canali. Imena ha mostrato curiosità riguardo alla situazione di Leonora a Parigi. Buonasera a tutti. Oggi condividerò con voi i miei pensieri sul destino che attende la giovane marchesa in Francia, ma prima di continuare vorrei menzionare un paio di cose. Primo, vi incoraggio a supportare questo video e a iscrivervi per rimanere aggiornati su tutto ciò che accadrà in La Promesa. E in secondo luogo, voglio chiarire un pettegolezzo. Leonor non è incinta, né fidanzata, né ha avuto alcuna relazione a Parigi che noi sappiamo. Il podcast di cui molti parlano è fittizio e non ha alcuna relazione ufficiale con la serie. Passando all'argomento principale, la scorsa settimana abbiamo discusso di Martina che evita di andare a Parigi. Non conosciamo le sue ragioni, ma se ci fosse un pericolo, Leonor C. si starebbe dirigendo direttamente. Anche se Martina non mostra preoccupazione per Leonor, solo ghigli sceneggiatori sanno cosa le aspetta a Parigi. Alcune cose sono chiare. Leonor sta assumendo l'identità di Martina, che ha chiaramente un interesse per la moda, e Leonor ha poche conoscenze in questo campo. Un altro punto da considerare è che Leonor non può continuare a fingersi Martina all'infinito, e se qualcuno scoprisse il suo segreto, avrebbe problemi. Inoltre, Leonor non apparirà nella seconda stagione della serie, il che ci porta a speculare sul suo futuro. Il personaggio di Leonor ha avuto un impatto minimo sulla trama, anche se è la figlia dei marchesi e sorella del protagonista, la sua rilevanza è stata limitata. La sua storia sembrava esistere solo per introdurre il personaggio di Martina. Detto ciò, abbiamo pensato a vari possibili scenari per Leonor. Scenario A. Finale. Felice. Basandoci sul fatto che l'attrice è un modello, Leonor potrebbe diventare un modello di successo in Francia. Abbandonerebbe i suoi studi e intraprenderebbe una carriera nel mondo della moda. Stanca delle aspettative familiari, scriverebbe ai suoi genitori, rinunciando alle sue responsabilità e ai suoi piani di matrimonio combinato. Con un futuro brillante davanti, inviterebbe i suoi fratelli a visitarla in Francia, chiudendo così la sua storia con un finale felice. La reazione di Cruz e l'effetto sulla famiglia. Cruz, naturalmente, sarebbe devastata. Non potrebbe fare nulla riguardo alla situazione e si dovrebbe rassegnare al fatto che sua figlia non vuole avere niente a che fare con lei. Martina, nel frattempo, cerca di essere una buona figlia, mantenendosi in silenzio. Tuttavia, la famiglia di Martina sarebbe informata che sua figlia ha lasciato l'accademia. Non ricevendo altre notizie di lei e non vedendo Martina tornare, avrebbero presto scoperto l'inganno e sarebbero intervenuti per chiedere spiegazioni. Alonso e Martina, come abbiamo detto, avrebbero avuto un ruolo in questi sviluppi. L'evoluzione di Leonor. Le storie che mi affascinano sono quelle che raccontano il viaggio interiore di un personaggio e una trama che realmente suscita il mio interesse è quella che tratta dell'evoluzione di Leonor. Da quando la incontriamo per la prima volta come una giovane donna, piena di sogni, speranze e incertezze, fino alla sua metamorfosi in una figura indipendente, forte e matura, la storia di Leonor è una testimonianza del potere della crescita personale e dell'autoscoperta. All'inizio, Leonor potrebbe apparire come molte giovani donne, cerca di trovare il suo posto nel mondo, si scontra con le aspettative della società e, soprattutto, è alla ricerca di se stessa. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Mauro, un uomo molto più grande di lei. Il loro rapporto diventa rapidamente il fulcro della storia. L'interesse di Leonor per Mauro non è soltanto fisico o superficiale, è anche un riflesso della sua ricerca di una figura guida, di qualcuno che possa mostrarle il mondo da una prospettiva diversa e, forse, offrirle la sicurezza che sente di mancare. Eppure, nonostante le mie opinioni personali e le mie emozioni rispetto alla loro relazione, non posso fare a meno di pensare che Mauro, essendo l'adulto e la figura più matura, avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso. Invece di permettere che la loro relazione si sviluppasse in maniera così intensa e rapida avrebbe dovuto riconoscere la vulnerabilità di Leonor e forse guidarla senza alimentare una dinamica potenzialmente tossica. In ogni caso, ciò che veramente spero di vedere nella trama è come Leonor, attraverso le sfide, le prove e le esperienze vissute, emerga come una donna consapevole delle sue scelte, forte nella sua identità e determinata a vivere una vita autentica e appagante. La sua crescita potrebbe servire da ispirazione per molti, mostrando che nonostante gli ostacoli e le complessità delle relazioni, ognuno ha il potere di evolversi, imparare e trovare la propria strada. Scenario B. Un finale felice con un po' di dramma. È simile al primo, ma con un incidente iniziale in cui Leonor deve confrontarsi con ciò che aspetta Martina a Parigi. Questo scenario comporterebbe qualche complicazione, ma alla fine Leonor realizzerà il tipo di vita che vuole vivere e seguirà il suo percorso. Scenario C. In uno scenario intricato e avvolto da un velo di mistero, troviamo la giovane Leonor, destinata a un triste e inatteso destino, la morte. La vicenda ruota intorno a un viaggio a Parigi, dove Martina, un'altra protagonista di questa storia, è diretta per ragioni che, al momento, restano ignote. Di Martina sappiamo poco e non possiamo che speculare su ciò che la attende nella città delle luci. Eppure, nonostante sia Martina il motivo principale di questo viaggio, è Leonor che finisce al centro di un potenziale pericolo mortale. Una delle domande che sorge spontanea è perché Leonor? Cosa o chi potrebbe minacciare la sua esistenza a Parigi? L'ombra di un pericolo che incombe si fa più densa. E se le cose dovessero prendere una piega tragica, se Leonor dovesse veramente perdere la vita nella capitale francese, sorgerebbero una serie di complicazioni. Infatti, dato il contesto, le autorità francesi potrebbero erroneamente identificare il corpo senza vita come quello di Martina. L'equivoco potrebbe avere origini complesse, magari legate a documenti scambiati, somiglianze fisiche o semplici malintesi. Ora, immaginiamo un momento di estrema tensione e dolore. Il corpo viene trasferito a Madrid, dove si attende con trepidazione l'arrivo di Martina. E qui, in una tragica rivelazione, la famiglia si trova di fronte alla realtà sconvolgente. Nel feretro riposa Leonor, e non Martina come inizialmente si credeva. Questa scoperta sarebbe non solo scioccante, ma anche devastante per entrambe le famiglie coinvolte. Le ripercussioni di un tale errore di identificazione sarebbero immense e profondamente dolorose. La famiglia di Martina, già preoccupata per la scomparsa della propria figlia, si ritroverebbe ora a dover affrontare una doppia tragedia. E per Martina stessa, il peso della perdita di Leonor, unito alla confusione e al senso di colpa, potrebbe essere insopportabile. La notizia avrebbe sicuramente un impatto sulle relazioni tra i due paesi, e le indagini sulle circostanze della morte di Leonor potrebbero prendere una direzione del tutto nuova e inaspettata. Il destino, in questo scenario, gioca un ruolo crudele e imprevedibile, intrecciando le vite di due giovani donne in un dramma avvolto da mistero e dolore. Il desiderio di vedere un personaggio ottenere un finale felice è una testimonianza del nostro investimento emotivo nella storia e del nostro attaccamento ai personaggi. Nel caso di Leonor, ho veramente sperato fin dall'inizio che il suo viaggio la portasse a un lieto fine. Il suo percorso, fatto di alti e bassi, l'ha portata attraverso sfide che avrebbero spezzato molti, ma la sua forza e determinazione sono sempre state una costante fonte di ispirazione. Ma, come sappiamo, le storie non si limitano a un personaggio, e Martina è un altro personaggio che merita una conclusione adeguata alla sua trama. Che sia un finale felice, malinconico o qualsiasi cosa in mezzo, è essenziale che la sua storia riceva la chiusura che merita. Entrambe, Leonor e Martina, sono personaggi complessi, con profondità ed emozioni che hanno catturato l'attenzione dei lettori, e una conclusione soddisfacente per entrambe sarebbe un tributo al loro sviluppo e alla loro crescita. La scrittrice Amparo Pignero, con il suo talento eccezionale, ha dimostrato di essere una maestra nell'intrecciare trame e creare personaggi memorabili. Dalla sua penna sono nate storie che hanno toccato il cuore di molti, e le aspettative sono altissime per la direzione in cui porterà queste due donne. Conoscendo la sua capacità di sorprendere e commuovere, sono sicuro che ci regalerà sviluppi inaspettati e profondamente emozionanti. Così, mentre attendiamo con trepidazione e speranza i prossimi capitoli di questa saga, confidiamo nel talento di Amparo. Sia che porti lacrime di gioia o di tristezza, sono certo che ci fornirà una conclusione degna di questi personaggi indimenticabili. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni della promessa.